Perché la luna si sente così sola? Perché? Perché aveva un amante una volta. Racconti queste storie ai bambini? No. Lui si chiamava Quequaccio e viveva con la luna nel mondo degli spiriti. Oh, è una storia vera. Bene. E ogni notte vagavano insieme per il cielo. Però uno degli spiriti era geloso. Quell'imbroglione voleva la luna tutta per sé. Così disse a Quequaccio che la luna voleva dei fiori. Gli disse di venire nel nostro mondo e raccoglierle delle rose selvatiche. Ma Quequaccio non sapeva che una volta lasciato il mondo degli spiriti non sarebbe potuto tornare. E ogni notte lui guarda su nel cielo e vede la luna e Ulula è il suo nome. Ma... non può più toccarla. Ma... Ma... Quequaccio è rimasto fregato. Quequaccio? Oppure Wolverine? Ma... 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 Grazie a tutti.